Musica Amici di Attisport24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri, la pallannuoto vista da vicino. Abbiamo il piacere di ritrovare oggi con noi il portiere della N-Brescia e della nazionale italiana Marco Dellungo. Ciao Marco, bentornato, grazie per essere nuovamente con noi. Ciao, buonasera a tutti. Marco, quale eredità vi ha lasciato la partita vinta alla Zanelli contro la Rarinantes Savona? Sicuramente è un fattore mentale che c'è bisogno di più concentrazione, di più mantenimento della calma in determinate situazioni, perché Savona ha dimostrato di essere una gran formazione e di metterci alle strette in gran parte della partita. Quindi vogliamo subito riprendere quei fattori che venivano a nostro favore e proseguire verso questo cammino. Che cosa significa per voi aver chiuso con la certezza matematica del primo posto il girone del preliminary round scudetto con due gare di anticipo? Sicuramente ci permette di stare più tranquilli, ma è una tranquillità molto diversa perché ci permette anche di guardare più in futuro e di iniziare a fare una preparazione verso la Champions League e anche verso la Coppa Italia. Quali sono gli aspetti del gioco su cui a tuo avviso la squadra può registrare maggiori margini di miglioramento? Penso che su tutti i fronti possiamo migliorare, non ci sono ben determinate cose che non sono andate male. Savona ha impostato sempre un ritmo molto elevato e quindi è difficile poi da mantenere a lungo termine. Poi dopo abbiamo sempre chiuso i loro scambi d'attacco e anche i difensivi. Vi aspetta da martedì il terzo e decisivo concentramento di Champions League. Ricordiamo che la Enne Brescia ha già acquisito la certezza della qualificazione alla Final 8. Questo concentramento però stabilirà i piazzamenti da cui poi scaturiranno anche gli accoppiamenti dei quarti di finale. Quali sono le vostre aspettative per la tre giorni di Budapest? Noi sicuramente puntiamo al primo posto e non al secondo posto, come anche il Barceloneta, quindi già dalla prima partita sarà una battaglia da combattere col cortello fra i denti. Andiamo là per vincere il Girone perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e lo vogliamo dimostrare fino alla fine e arrivare da prima e da testa di serie del Girone. Non vogliamo dare niente per scontato e vogliamo arrivare fino alla fine. Torniamo un attimo indietro al concentramento precedente. Nell'ultima gara del Girone, quando avete battuto per la seconda volta il Ferencvaros, hai purtroppo subito l'espulsione ed è entrato in vasca il tuo vice. Toglici una curiosità. Sì che tra l'altro devo ammetterlo se disimpegnato in maniera egregia rispingendo anche le conclusioni sulle quali veniva stuzzicato. Cosa hai detto a Gianazza al termine della partita? Ho detto bravo, ci hai salvato perché era un momento molto delicato per un mio errore, per eccesso di foga. Ho commesso quel fallo molto ingenuamente. Matteo è entrato quasi all'improvviso, però è riuscito a mantenere la calma e a fare delle grandi parate che ci hanno permesso di concludere la partita con la vittoria. Hai detto giustamente tu prima che il nuovo concentramento di Champions si aprirà con la sfida contro il Barceloneta. Nel primo incrocio nello scorso dicembre si sono imposti gli spagnoli. Per riuscire a conquistare il primo posto avete bisogno di una vittoria. Quali sono gli errori che non dovete commettere in questa gara? Sicuramente non prendere espulsioni banali perché la partita dell'andata si è giocata proprio sull'uomo in più se andiamo a fare dei dati statistici. Non è che ci sono stati grandi errori. E soprattutto bisogna mantenere l'organizzazione di gruppo che è fondamentale per sovrastare quella del Barceloneta. In quanto il Barceloneta ha una grandissima organizzazione di gruppo dove all'interno ci sono giocatori ben specifici per ogni reparto. Se devi scegliere due massimo tre giocatori ai quali diresti bisogna prestare un occhio particolare al di là di quella che è l'ordinaria organizzazione difensiva. Su chi punteresti la tua attenzione? Ma intendi del Barceloneta? Sì del Barceloneta cioè due o tre giocatori da temere in particolare. Sicuramente Filippo Perrone perché è la mente della squadra quindi è un punto cardine del Barceloneta. Poi c'è Munarriz che è un grande leader all'interno del gruppo e ha un grande carisma e a volte riesce anche a risolvere determinate partite con gol molto pesanti. Poi soprattutto anche Mike Bodegas perché sta lavorando veramente bene come centro boe e riesce ad ottenere superiorità ma anche a segnare tantissima. Quali sono invece le armi sulle quali il Brescia deve puntare per riuscire a mettere alle corde gli spagnoli? Sicuramente sfruttare il maggior numero di superiorità numeriche a nostro favore, di far stancare la squadra e di cercare soprattutto di limitare i loro schiavi d'attacco che sono molto efficaci. Quali insidie possono invece nascondere le altre due partite che affronterete? Match sulla carta che potrebbero sembrare ampiamente alla vostra portata? Sicuramente l'aspetto psicologico è quello prima di tutto perché affrontare una partita con troppa leggerezza poi alla fine è deleterio per tutto il gruppo quindi bisogna affrontarla come se fosse una partita normalissima. Soprattutto anche la causa di infortuni potrebbe essere anche un'altra tematica da tenere sotto occhio perché se non si affronta adeguatamente l'avversario ci rischia anche di farsi male. Chiudiamo alla nostra chiacchierata con un'ultima domanda. Primo, secondo o terzo? Questo sarà la vasca a deciderlo. Però nei quarti di finale c'è un avversario che vorresti evitare? Contro il quale dire magari questa squadra voglio trovarla in semifinale o mi auguro di incrociarla in semifinale? Oppure nella piena consapevolezza del vostro valore non c'è avversario contro cui non avete timore di battere? Ma guarda, alla fine ogni avversario vale la stessa storia perché poi in queste partite è tutto o niente. Sono partite decisive e quindi non conta primo, secondo o terzo ma è il fattore campo e quel giorno stesso che conterà. Quindi io penso che il valore del Brescia è altissimo e può affrontare qualsiasi tipo di squadra. Va bene, siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Marco Dellungo per essere stato in nostra compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Marco, grazie mille. Grazie a voi.